È come mettere un seme nel terreno. Non cresce finché non aggiungi del fertilizzante o dell'acqua. In questo caso, sebbene il seme del cancro fosse presente geneticamente, non cresceva senza le proteine. Poi, dopo nove settimane, quando pensavamo che il cancro fosse debellato, siamo passati di nuovo al 20% di proteine e il cancro ricresce. In altre parole, quando abbiamo un seme del cancro nei geni, può rimanere nel nostro corpo per molto tempo. E se si cominciano a mangiare molte proteine, il cancro può crescere.